Ciao Silvia, benvenuta. Già vedete da tutta l'attrezzatura che si tratta di qualcuno che lavora quasi quotidianamente con video e podcast. Silvia Bevilacqua è giornalista e videomaker e ti lascio la parola. Ok, grazie mille Alessandra. Allora, io oggi vi parlerò di come fare video così, esattamente così, dove avete delle immagini di sfondo e voi siete piccoli in un angolino. Questa è la promessa con programmi non solamente fatti in programmi di montaggio. Io mi chiamo Silvia Bevilacqua, credo che in questo mondo di contenuti digitali saper catturare e montare video sia importante quanto saper leggere e scrivere e per questo mi piace chiamarmi maestra di videomagie. Questa è la mia presentazione, ora andiamo ai contenuti. Allora, io vi ho promesso che vi mostrerò degli strumenti gratuiti per poter registrare lo schermo del vostro computer e voi siete in un angolino. Però come premessa vi dico che tutto questo è serenamente possibile farlo anche con un qualsiasi programma di montaggio video che a me piacciono molto e hanno un sacco di vantaggi. Perché? Perché a qualsiasi programma di montaggio potete mettere le vostre slide sullo sfondo e nel caso voi avete già delle slide pronte che si possono trasformare in un JPEG, non è necessario registrare tutto contemporaneamente perché potete registrare l'audio anche soltanto concentrandovi su quello che voi avete da dire. E poi ecco sulla seconda traccia, quella che si sovrappone, potete mettere quello che volete. Voi piccolini ma potete mettere anche tante altre immagini. Però non è di questo che parliamo oggi. Ecco queste sono un po' le funzionalità del programma di montaggio che è anche quello bellissimo per chi magari è un po' insicuro di poter tagliare ed eliminare gli errori e di avere magari delle personalizzazioni in più. Questi effetti si chiamano immagine nell'immagine che in inglese è picture in picture e c'è l'acronimo PIP. Ve lo dico perché spesso vi capiterà nella così se cercate nei programmi di montaggio questo acronimo e così sapete di che cosa si tratta. Però arriviamo al vero contenuto perché ho promesso che non parlavo di montaggio video che mi piace molto però oggi stiamo su altro. Allora il primo programma che vi propongo è Vimeo o meglio un'estensione di Chrome che è creata dalla piattaforma Vimeo. Se non lo conoscete Vimeo è una piattaforma che funziona in modo simile a YouTube nel senso che ospita i vostri video che poi potete incorporare nei vostri siti ma non ha pubblicità e quindi ha un costo in abbonamento cioè una versione gratuita per qualche mega settimana e poi dopo ha una versione in abbonamento. Rilascia questa estensione di Chrome gratuita che vi permette di registrare video in ottima qualità. È molto semplice ma un pochino limitata nel senso che potete scegliere se registrare solo lo schermo solo voi o voi e lo schermo. È abbastanza limitata è però semplice nel senso che è un'estensione del browser e il vantaggio è che registra eh registra immagini a una buona in buona definizione cioè in una definizione adatta alla registrazione perché l'alternativa spesso mi sono accorta che è zoom ma zoom non è assolutamente adatto alla registrazione perché perché è fatto è una piattaforma fatta per la videoconferenza che ha una qualità video molto bassa eh quindi questo vi permette di avere lo stesso risultato ma con una qualità migliore insomma adatta soprattutto a un videocorso. Eh l'altra cioè l'altro l'altro strumento eh per girare appunto i vostri videocorsi o i video tutorial per i vostri clienti è eh LogiCapture che è gratuita ma soltanto se avete una webcam Logitech. Eh l'ho inserita comunque perché perché spesso se volete iniziare a girare soprattutto videocorsi ehm è a migliorare la qualità della ripresa video è la prima cosa quindi dotarsi magari di una webcam eh con una qualità più elevata eh così è utile. La Logitech mette a disposizione questo programma che ha tantissime funzionalità tra cui le vedete cerchiate lì sopra è quello di poter modificare l'impaginazione. Eh le potenzialità sono che potete impostare eh impostare la vostra webcam e per esempio per chi ha dimestichezza con esposizione, messa a fuoco, cose di questo genere lo potete fare manualmente. Funziona da videocamera virtuale che è un po' difficile da spiegare ma è quello che sto facendo io ora. Cioè in pratica fate una regia dal vostro computer e poi la inviate a qualsiasi programma, streamer o zoom e poi appunto le diverse impaginazioni. Le diverse impaginazioni non sono altro che eh avere delle cose tipo queste dove voi potete cambiare dall'impaginazione in cui siete in un angolino all'impaginazione in cui siete a schermo intero o potete diventare a mezza pagina. Eh con questo programma potete potete cambiare a seconda eh delle delle vostre esigenze. Ecco e quindi torniamo invece alla nostra presentazione. Il prossimo programma è Screen Customatic. Screen Customatic è un programma che è pensato eh esattamente per questa cosa. Cioè nel senso che è una piattaforma di montaggio video con una o un'estensione del browser o un programma che scaricate e installate sul vostro computer è fatto esattamente per registrare eh lo schermo del vostro video e creare dei tutorial o dei videocorsi. Eh cosa succede? Che eh la piattaforma di montaggio video è in abbonamento. Mentre invece il programmino per registrare eh per registrare lo schermo del computer eh viene rilasciata in maniera gratuita. quali sono le funzionalità? Eh sono eh una cosa che fa soltanto questo programma è quello che voi potete aggiungere direttamente mentre spiegate potete aggiungere delle freccine o degli scarabocchi o dei cerchiolini. Quindi se avete l'esigenza di interagire con con il vostro con il vostro documento o col programma che state eh mostrando eh questo direi che è la cosa più cioè è quello più performante. Eh beh puoi scegliere la definizione o comunque un'ottima definizione eh e eh ha la doppia funzionalità. In più se eh nella versione pro quindi sottoscrivendo un piano in abbonamento eh vi permette di montare quindi di tagliare gli errori e di rifinire eh di confezionare in modo così eh più professionale il prodotto eh ha una funzionalità che tantissimi mi chiedono quindi io ve lo dico trascrive il parlato quindi nella funzionalità pro però in abbonamento trascrive il parlato e poi ha una libreria di immagini ma anche di musiche ed effetti royalty free come parecchi dei programmi che vengono rilasciati eh in abbonamento. Eh l'altro programma che vi propongo per oggi è invece OBS e Open Broadcast Software che è quello che sto utilizzando io oggi. È un programma open source e completamente gratuito. È un programma che è stato è nato è stato pensato per eh le dirette per lo streaming ma eh potete anche registrare eh quindi per le dirette nel senso che potete potete fare una vera e propria regia quindi potete mostrare lo schermo del computer il videogioco spesso viene usato per questi videogioco slide e tanti altri elementi ma eh oltre a mandarlo in streaming lo potete anche registrare sul vostro computer quindi eh svolge esattamente la stessa la stessa funzione di eh di un programma cioè registra anche lo schermo del video e voi che parlate. Eh la cosa ottima è che ha tantissime personalizzazioni quindi se volete mettervi i i in una in un non in un tondo non in un cerchio ma in una sagoma eh così non meglio specificata come la mia lo potete fare soltanto con OBS o con programmi di livelli superiori. Non tutti hanno questa esigenza ma è quello che eh OBS può fare e poi potete avere infiniti layout. Adesso eh ok la massima personalizzazione nell'impaginazione nel senso che anche lì dipende da quello che voi volete magari se però avete già un'attitudine molto visiva e eh siete felici di eh trovare un programma con tanti eh con tante funzionalità in più funzionalità in più OBS fa per voi ehm registra anche trasmette in diretta ha un'estensione per diventare una videocamera virtuale come quella che sto utilizzando io ora ma è un pochino complicato da da iniziare a utilizzare eh eh comunque eh e poi è open source ecco insomma quindi ha anche una grandissima eh community community di supporto. Eh ecco le funzionalità eh di OBS sono appunto quelle di poter eh di poter eh ok eh di poter cambiare impaginazione e questo è fondamentale perché perché qualunque programma voi utilizziate alla fine però vi consiglio una cosa eh di non mettervi sempre in quell'angolino lì nel senso che lo spazio visivo eh quello che voi spiegate è importante non soltanto per i contenuti che dite ma anche per come li spiegate come li mostrate era era la relazione che intercorre tra voi e lo spettatore registrare un intero videocorso mettendovi nell'angolino è come se voi vi metteste nell'angolino sia visivamente eh che metaforicamente quindi al di là dello strumento che utilizzate eh cercate di ideare qualcosa in cui ci sia una parte in cui voi siete nell'angolo perché ovviamente dovete mostrare qualcosa e quello che succede sullo schermo è più importante questo vale soprattutto quando dovete mostrare un programma mostrare un documento ma anche se volete utilizzare l'impatto emotivo che solo le immagini sanno dare però ci sono dei momenti in cui voi volete parlare direttamente alla vostra eh al vostro pubblico e eh se voi occupate più spazio nell'immagine eh si creerà eh si creerà un 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 rapporto ci sarà ecco ci sarà una simulazione di presenza ok molto eh molto più forte quindi adesso torno nell'angolino per farvi vedere eh l'ultima immagine ok eh quest'ultima slide io ho finito eh quest'ultima slide in realtà dice soltanto che tutto quello che io vi ho detto è eh anche l'ho anche scritto in un in un in un blog post dove probabilmente ho riassunto eh le caratteristiche in modo più eh in modo più coerente perché le ho scritte e quindi sono sicura di non essermi perso nulla quindi poi quando queste slide saranno pubblicate Silvia ve le manderà eh potete trovare il link e poi io credo di aver finito perché sì qui vi lascio semplicemente i miei contatti perché eh io mi occupo sempre di creare video più o meno in in ogni in ogni sua declinazione video con il telefonino video corsi video per YouTube e quindi se avete domande potete ritrovarmi eh da qualche parte sia su Instagram sia sul sito dove ho tantissimo materiale strumenti che ho condiviso c'è anche una newsletter e e soprattutto su YouTube ci sono molti più tutorial ehm di tematiche affini io ora ho finito torno a schermo intero e aspetto che arrivi qualcuno vi ho detto tutto grazie Silvia utilissimi veramente eh alcune di questi li conoscevo e alcuni li ho sperimentati ci sono anche altri strumenti che fanno cose simili a quelle come chiaramente chiunque può immaginare in questi anni sono uscite tantissimi tool e ne escono continuamente ma l'importante veramente è capire la logica di funzionamento e anche capire questa cosa che tu hai detto non state sempre nell'angolino in fondo eh variate eh diciamo l'attenzione in modo da tenere l'attenzione ma anche insomma da generare creare un rapporto con le persone che vi stanno guardando sì questo credo che sia veramente importante e sta un po' nella consapevolezza ehm così nella consapevolezza anche dello spazio che si occupa nell'inquadratura e il fatto che poi insomma le immagini funzionano un po' così tutto è riquadrato e inquadrato e non so ecco poi è un po' il mio pallino ecco insegnare come funziona il linguaggio delle immagini e quindi al di là degli strumenti è importante poi capirne i meccanismi poi gli strumenti ce ne sono anche altri io mi sono concentrata su quelli più più accessibili ecco certo eh però eh però ecco sì è importante usare bene le immagini usare delle immagini che siano pregnanti che siano che siano significative e poi alternare anche perché il movimento poi spesso eh è quello che attira l'attenzione cioè nel senso nel momento in cui c'è un cambio di inquadratura se il nostro spettatore si era un attimo sopito si riattiva e quindi poi abbiamo un picco di attenzione ecco questo più o meno come funziona in generale lo confermo grazie grazie Silvia di nuovo grazie a te Alessandra buona buona continuazione grazie a te Alessandra Grazie a tutti